Nuova brutta sorpresa dal cantiere della Ticosa e tripla tegola per l'amministrazione comunale. Non solo la bonifica, iniziata a gennaio, ha portato alla luce tracce di amianto nell'area dell'ex tintostamperia, ma per smaltirle il Comune dovrà sborsare 800.000 euro in più, mentre si allontana ulteriormente il momento in cui l'area verrà riconsegnata alla città. Con la scoperta dell'amianto nei pressi dell'ex comparto elettrico della Santarella e lo stanziamento degli 800.000 euro necessari per smaltirlo, il costo della bonifica arriva a quota 3,2 milioni di euro. Il progetto è un progetto complesso di bonifica che ha previsto una fase iniziale di carotatura che ha identificato un certo numero di areali nei quali intervenire per la bonifica. In uno di questi areali lo scavo ha portato in evidenza la presenza di materiali che non erano previsti nel piano di bonifica, in particolare tracce di amianto. Quindi l'attivazione di tutte le procedure è necessaria. Per legge infatti questi rifiuti speciali vanno messi in sicurezza, portati via e smaltiti correttamente entro tre mesi. In totale circa 3-4 mila tonnellate di materiale di scarto tra frammenti di amianto, terra e calcestruzzo. Per questo la Giunta ha dovuto reperire le risorse extra necessarie con un emendamento al bilancio da 800.000 euro, spostando i soldi accantonati per il lungolago per lavori che comunque non sarebbero stati effettuati quest'anno. È stato un brutto colpo per tutti quanti noi e penso anche per l'intera città dover affrontare un costo come questo. Noi ci auguriamo che questa sia l'ultima delle sorprese. Io se non ci fossero altri imprevisti ritengo che l'operazione è in corso e ragionevolmente nella primavera prossima potremo avere a disposizione l'area. Però queste sono ipotesi mie.